Assalto al Bancomat della Banca Suasa a Mondavio alle 3.30 di questa notte da parte di tre uomini a volto coperto. Il boato nella notte è stato udito da tutto il paese e l'esplosione ha mandato in frantumi i vetri di molte finestre circostanti la piazza dove si trova lo sportello automatico andato completamente distrutto. Limitati i danni all'edificio, l'accorgimento usato da Banca Suasa di ancorare al terreno, il Bancomat ha limitato i danni strutturali. Esigue il bottino da una prima stima al di sotto dei 5.000 euro. La tecnica usata dai banditi è quella della marmotta, già nota alle forze dell'ordine, che consiste nell'introdurre all'interno dello sportello automatico una pala in ghisa carica di esplosivo che assomiglia appunto a una marmotta. Per coprirsi la fuga i tre ripresi dalle telecamere del Bancomat si sono impossessati di una targa di un'auto, una polo, ritrovata poi poco distante. Ora su quanto accaduto indagano i carabinieri e la polizia locale.